Siamo nella Casa Italiana dello Sport dove oggi abbiamo partecipato alla cerimonia promossa da Access Europe e nella quale è stata ufficialmente riconosciuta la candidatura di Taranto a Città Europea dello Sport. È stata un'occasione importante anche per ribadire alcuni concerti dello sport che sono quelli dell'inclusione, della formazione, della partecipazione, della promozione turistica nonché volano economico. Ci accingiamo ad avere questo importante riconoscimento per il 2025 e dovremmo consegnare il dossier entro la fine del mese di giugno. Successivamente nel mese di settembre avremo come ospiti la Commissione che valuterà tutto il nostro lavoro. Faremo di tutto per portare a casa questo importante riconoscimento che sarebbe un ottimo apripista per i giochi del Mediterraneo del 2026.